Mi dica, che cosa fa dell'isteria? Niente. E' una sensazione. Melanconia, stati d'ansia, linfomania, frigidità. Una fame. Io non posso cantare. Ci sono molti trattamenti, ma io preferisco un approccio più diretto. Si comincia con il dito indice che applica una leggera pressione. Trevigliante. Ah! Ho ricevuto un'offerta di lavoro dal più importante specialista in medicina femminile. Poverino, che orrore. Così è perfetto, dottore, grazie. Muchas gracias! Non hai alcuna idea di ciò di cui una donna ha bisogno? Quella donna è... isterica. Mia figlia, Emily Dalrymple. Non ho dubbi che possa rivelarsi un'ottima moglie per un medico. Ed un medico... Ciao, tuo padre. Ricorda mia figlia Charlotte, il mio nuovo assistente. A senso non ferirti, dottore. Oh. Molly, giusto? Gli amici mi chiamano Molly Leccalecca. No, no. La sua mano non sembra affatto migliorata. In effetti è così. È staticoso dare piacere a metà delle donne di Londra. Ai, che manufrio! Il mio nuovo si è per povere. Può funzionare. Oh, davvero? Uno massaggio elettrico? Su chi si fa la prova? Tre parossismi in cinque minuti. È in alto una straordinaria rivoluzione! Può funzionare. Può funzionare. Può funzionare. Può funzionare. Può funzionare.